Ho chiuso la strada qua Può essere Faro tutte le bancarelle Osea Andraio Osea Andraio Questo è il Mambos Pelican Questo non lo so Hai visto le moto che rimangono ferme dietro le macchine? Ah no, non ci ho fatto caso ancora Ancora a spy bike Ancora a spy bike Miami Polis 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 Grazie a tutti. Sembra il deserto qua in confronto al centro di Ocean Drive. Cosa volevi vedere? Cosa vuoi vedere? Babi, è cute! Hotel Place? Palestra, sembra deserto. La crisi ragazzi! Questo è il Portofino Tower. Questo qua, eh? Quello rosa. Portofino Tower. Adesso vi faccio vedere il ristorante dove si mangia una carne... Eccolo! Si mangia una carne... Questo qua. Questo ristorantino qua? Si mangia una carne della Madonna? Si, qua. Questo qua. Come si chiama? Vic Angelos. Ah, questo qua. Si mangia una carne della Madonna al Prime, Prime 112. numero 112. Questo qua. E' il famoso Nicky Beach. Adesso se non faccio un frontale con la macchina ci arriviamo. Parcheggiamo la nostra moto e sono 10 dollari. E' la questione. Nicchi Beach. E' la versione. E' la versione. E' la versione. E qui finisce il nostro giro